Con il presidente della Ciprietti Vending Campi, Pietro Quaresimala, allora presidente, una promozione meritata, conquistata dopo un campionato dominato dall'inizio alla fine, quanto era difficile, le chiedo anche, ripartire dopo la delusione dell'anno scorso, quindi una promozione che palosalmente vale anche il doppio, perché c'era già la delusione dell'anno scorso, Campi è riuscita a ripetere una stagione se non migliore rispetto all'anno scorso. Certo, è un'emozione bellissima, è una gioia per tutti questi fantastici tifosi, per la società, per lo staff tecnico, per i giocatori. Io appena è finita la partita mi sono emozionato, vedere questo palabor Gognoni così pieno è la più grande... E lo stimolo sono questi ragazzi, una cosa fantastica, ci hanno seguito in tutte le trasferte, è il nostro stimolo, è la nostra forza. Come dicevo prima, diceva anche lei, dopo la sconfitta dell'anno scorso contro Vasto in finale, non era semplice ripartire, non era semplice fare meglio dello scorso anno, noi siamo ripartiti, ci abbiamo messo tutta la volontà, tutto lo stimolo e finalmente abbiamo raggiunto quel sogno che l'anno scorso ci è sfuggito per poco. Adesso ci vogliamo questa bellissima vittoria, festeggiamo, dopodiché iniziamo a lavorare per il futuro, per fare una squadra competitiva anche in C1.